Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video, io sono Nemis, oggi video collaborazione con The Tree Love Pink e ho lasciato infatti giù nell'info box i canali delle ragazze che hanno partecipato a questa collaborazione che ringrazio e do un grandissimo bacione, ciao ragazze oggi ci siamo ideati a fare questo video che profumo usi o ti piace beh adesso arriva il periodo estivo e quindi ho due profumi il primo sarebbe per il giorno e il secondo sarebbe per la sera vi faccio vedere allora questo qui sarebbe coach, è un profumo veramente straordinario ragazzi e questo qui lo uso il giorno, è veramente buonissimo, mi piace un casino veramente veramente molto molto bello, io lo uso anche quando devo andare al tabaccaio la spruzzata è veramente fortissimo, con una spruzzata si sente un casino, è veramente stupendo poi ci sta questo qui, questo qui è di Giorgio Ormani, il sì è veramente anche questo uno dei miei profumi preferiti serali, il coach mi piace di giorno perché è molto fresco, la profumazione è proprio estiva, quindi di giorno è perfetto invece questo qua, il sì di Giorgio Ormani lo uso la sera, che ne so, metti caso esco, vado al ristorante oppure la stessa cosa, anche andare in discoteca oppure anche se stessa cosa devo andare a prendere anche qualcosa da bere, a un pub per esempio e quindi mi piace moltissimo la fraganza è sempre estiva questa qui però è più pesante quindi è un po' più concentrato come profumazione tutte e due sono eau de parfum sono tutte e due eau de parfum e sono tutte e due vaporizzanti quindi questi qua sono i miei due profumi preferiti e che uso adesso in questo periodo poi bisogna vedere perché adesso ho intenzione di comprarmi acqua di Parma ho intenzione di ricomprarmi anzi acqua di Parma alle mandorle di Sicilia che è buonissimo, io ce l'ho avuto l'anno scorso e mi sono trovata veramente bene e quindi lo devo adesso ricomprare ovviamente infatti vede due ma io veramente ce n'ho un casino un po' me l'ha regalata il mio amore un po' mia madre, un po' mia sorella quindi c'ho tipo questi sono due però di là c'erano altri 20 c'è tanto per far vedere Dior e poi che c'ho ce n'ho due di Dior poi ce n'ho una di Lugio e poi ce n'ho due di San Loran e poi vabbè eccetera eccetera poi magari farò un video solo dove vi faccio vedere tutti i miei profumi che ho con questo ragazzi il video è finito spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e lasciate giù i commenti di cosa ne pensate attivate la campanellina così non vi perdete i miei video mi raccomando fateci un saltino nelle ragazze lasciate un bel pollicino all'insù che non fa mai male e noi ci vediamo a un prossimo video ciao